Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Recappone, Maze of Memories, il set più atteso dell'anno Perché il più atteso dell'anno? Appunto perché la gente lo sta aspettando tantissimo Perché appunto sappiamo che i due ristampe sono molto importanti Sappiamo anche una rarità che Baron de Flore sarà ultra rara Ovviamente la rarità più alta è la ultra rara e giustamente Baron sarà ultra raro Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di iniziare sempre, saremo dei miei che non sono, grazie mille ragazzi Maze of Memories, il set di 67 carte, andiamo a rivedere 10 ultra, 15 super, 42 rare Sappiamo che ci saranno nuove carte indenenti al guardiano del cancello Mura labirintica, il cararmato labirinto, quindi molto molto importante Tanti in attesa anche di questo qui e andiamo a fare il recapone di tutte le carte finora presentate Abbiamo il Black Lacer Soldier, il nuovo rituale, Duel Academy, Actual Synchro Stardust e Red Eye Soul Partiamo con le prime quattro Allora BLS, possiamo ritornare questa carta con Chaos Form Rituale del Super Soldato Deve prima essere evocata ritualmente Durante la draw phase Nell'istante in cui conduce il tuo normal Possiamo arrivare questa carta dalla mano per aggiungere una carta rituale dal deck alla mano L'avversario non può attivare carte o effetti durante la battle phase Quando questa carta attacca, quando è stata evocata tramite rituale Utilizzando un mostro normale rituale Distruggiamo un mostro dell'avversario in battaglia Glielo mischiamo nel mazzo Quindi molto buona perché la carta non va a finire nel cimitero Quindi È il problema che dobbiamo utilizzare un mostro normale per mischiare Ah, mischiamo tutte le carte che lui controlla Scusate, non il mostro Mischiamo tutte le carte che lui controlla nel deck Infatti me lo ricordavo molto molto più forte Quindi, Riveli ti aggiungi la carta rituale che è molto forte Se lo evocchiamo tramite rituale utilizzando un mostro normale E attacca E distrugge un mostro in battaglia Riveli mischiamo tutte le carte che l'avversario controlla Quindi Non può attivare l'avversario ovviamente in battle Non può attivare niente Quindi potenzialmente è molto molto grosso Però è anche un pochino fragilino Diciamo Nel senso che comunque gli puoi negare l'effetto subito Dual Academy Guadagna con i seguenti effetti In base ai tipi di mostri sul terreno Carta magia, terreno Guerriero, bestia o piro Una volta per turno Se attiviamo una carta trappola Eccetto durante il damage Possiamo targettare una carta all'avversario E la spacchiamo Dinosauro, serpente marino o tuono Una volta per turno Se attiviamo una spelle Eccetto il damage Possiamo infliggere mille danni all'avversario Macchina, fata o demone E' carino che comunque il piro non è messo con il burn Una volta per turno Se attiviamo un effetto di un mostro Eccetto il damage Possiamo targettare un mostro subito E controlliamo che guadagna mille Anche se questa carta lascia il terreno Fondamentalmente quello più interessante E' il primo effetto E' il primo effetto che magari non si va a combaciare Con dei tipi di carte Che utilizzano le trappole Red Ice Il nome di questa carta diventa Il dragon dei rocchi rossi Vanno scoperta sul terreno del cimitero Se l'avversario speciale Non ho più mostri Possiamo mandare questa carta Dalla mano Terreno al cimitero Per specialare una carta Red Ice Dalla mano Deck Eccetto lui Quindi effetto Una volta per turno Effetto rapido Possiamo targettare un dragon dei rocchi rossi Nella zona mostri Infliggiamo danni all'avversario E uguale al suo attacco originale Carino Effetto del burn E' molto molto bello Mi piace tantissimo Il dragonero burn Agile Synchron Stardust dragon Un tuner Più uno più mostri Non tuner Se questa carta viene evocata tramite sincronizzazione Possiamo specialare un mostri livello 2 Inferiore tuner Al cimitero Durante la mind phase Effetto rapido Possiamo tributare questa carta Per specialare un Stardust dragon Dalla extra deck Questa viene trattata Come un'evocazione sincro Poi immediatamente Dopo che questo effetto Si è risolto Evochiamo sincro Utilizzando i mostri Che controgliamo Questo turno Il mostro evocato sincro Da questo effetto E' immune agli effetti attivati E' immune agli effetti attivati Dell'avversario Quindi molto molto interessante Perché comunque Mazzi sincro Fanno sincro Quando cacchio gli pare Poi Time to stand up This crazy little punk Forge a new future Wonders of nature Vado a rage di 4 Allora Time to stand up Se un mostro drago sincro E' sul terreno Specialiamo fino a due mostri Che sono resonator E oppure Un mostro livello drago Dal deck Quando viene attivato L'effetto in un mostro Mentre controlliamo Un mostro livello 10 O superiore Drago Dark Syncro Possiamo mandare questa carta Al cimitero Per negare l'effetto E se lo facciamo Un mostro sincro Che controlliamo Con anni a 2000 Fino alla fine Nel prossimo turno Carta ovviamente Per Dice Archifend This creepy little punk Viene sempre trattata Come una carta Infernity Specialiamo un nostro Mostro infernity Che è stato bandito Nella mano Nel cimitero Se uno per i mostri Scoperti Inferni Ne controlliamo Vengono risolute In battaglio Lasciamo il terreno A caso dell'avversario Dall'effetto Non dell'avversario Mentre questa carta Nel cimitero Possiamo settarla Molto molto forte Forza new future Una volta per catena Se un link 4 Viene evocato link Possiamo piazzare Un counter Su questa carta Massimo 3 Applichiamo i seguenti effetti In base ai counter 1 Dichiariamo il nome di una carta Se lo facciamo L'attivazione Gli effetti sul terreno Con il nome originale Di quella carta Sono negati 2 Specialiamo un mostro 4 Inferiore al cimitero 3 Mandiamo questa carta Al cimitero E se lo facciamo Specialiamo un link 4 Dall'extra deck Il fatto di counter È molto molto Però nega col primo Quindi con un counter Se fa un link 4 Neghi una carta Wonders of nature Specialiamo un mostro Velo 4 Inferiore Fata Incantatore Bestialato Cuorriero bestia Dalla mano Se lo facciamo E poi facciamo Questa carta Da a lui Poi facciamo Ritornare tutti i mostri Drago sul terreno Nella mano Anti albat Durante la end phase Questa carta È nel cimitero Perché ci è stata Mandata Mentre la scoperta È nella magia Trappola In questo turno Possiamo aggiungere una carta Polimerizzazione Oppure una spell fusion Oppure una spell fusion Oppure una fusion Parasite Dal deck Alla mano Comunque questa è una carta Molto molto interessante Poi Firewall Darkfluid dragon Utopia rising Redeset duel Wake up Your Limit our hero Sembro tanto british Ma voi sapete che Manco per niente Firewall Darkfluid Extra deck Al cimitero Se la facciamo Questa carta Se facciamo Questa carta È anche considerata Con l'attributo Di quel mostro È più Ragna 2500 Una volta Ok Una volta per turno L'effetto Questa carta Può attaccare Un numero di volte In base Al numero di attributi Che Che ha Fondamentalmente Ti mandi Uno arriva a 5000 Attacca due volte Fondamentalmente È un super Bittone Facilmente Contrastabile Con carte Trappola Ma che Potenzialmente Ti può chiudere La partita Con un attacco Utopia rising Due mostro Velo 4 Se questa carta Viene specialata Possiamo Draghettare Il mostro Numero Exis Nel cimitero Occetto lui Lo specialiamo In difesa Poi Possiamo attaccare Tutti i materiali Di questa carta A esso Se evochiamo Tramite Exis Possiamo specialare Questa carta Al cimitero Ma la bandiamo Quando lascia Il terreno In realtà Molto forte Perché ti consente Poi quando viene specialata Non quando viene evocata Tramite Exis Quindi Tanta tanta roba Si può riattivare Il secondo effetto Un'altra volta Quindi molto interessante Preset Un mostro elementale Un mostro elementale Fusione Più un mostro guerriero Le prime A essere evocate Tramite fusione Non può essere specialata In altri modi Guadagna 300 Per ogni materiale Da fusione Utilizzato per la sua Evocazione Può attaccare Un numero di volte In battle face Pari a un numero Di mostri in fusione Utilizzati come materiali Per questa fusione C'è scritto Fusion Tipo 8 volte In una frase All'inizio del damage Se questa carta Combatte con un mostro Distruggiamo quel mostro E se lo facciamo Distruggiamo Dagna l'avversario Uguale al suo attacco Originale Se questa carta Evocata a fusione Viene distrutta Possiamo specialare Un mostro guerriero Della mano O deck Anche noi Il pittone è molto grosso Sono tutti pittoni Soul Of the supreme king Battle royal Mood joining Overline network Angel of blue tears Variant Antopia Evolution Resolve Burst Dragon King Smith Le ho messe tutte insieme Perché sono le ultime Carte nuove E dai Ci sono stati aprendi Effetti di 8 km Ormai si È così Junhi Però insomma Soul of the supreme king Paghiamo Dei nostri lp Per specialare Un re supremo Z-Arc D'Alexa Lek Ignorando le sue condizioni Di evocazione Ma ne 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 chiamo Gli effetti Si viene E viene fatto tornare Nell'extra deck Durante l'enfase Il prossimo turno Quando l'avversario Attiva una carta magia Un effetto Possiamo dire Questa carta Dal cimitero È un Supreme king Z-Arc Scoperto Nella zona Moschi Specialiamo fino a Un mostro pendolo Drago Un exis drago Un sincro drago E un mostro fusione drago Dalla mano Dexter Extra deck E oppure cimitero Battle royale Mode joining Attiviamo questa carta Targettando un mostro Con effetto sul terreno Le prime due volte Che il mostro Sta per essere distrutto In battaglia Ogni turno Non viene distrutto Quando quel target È distrutto in battaglia Il giocatore Che l'ha distrutto Guadagna 2000 lp Se Se in questo turno L'avversario Ha preso danno Da battaglia O d'effetto Applichiamo il seguente Effetto Specialiamo un mostro Dello 4 Inferiore Dalla mano Un deck E poi Perdiamo 2000 Se lo facciamo Overline network Durante la main phase Attiviamo Dei seguenti effetti Targettiamo un mostro E scoperto E controlliamo Che ha un livello Specialiamo un mostro Con lo stesso livello Della mano Ci vediamo In posizione di difesa E su effetti Dondecati E poi Ma non possiamo Speciale Monster L'extra deck Eccetto Exis E poi il secondo Targettiamo un mostro Exis Che controlliamo E aggiungiamo Uno dei materiali Attaccati Alla mano Il proprietario Ok Poi Angel of the tears Targettiamo un mostro Scoperto sul terreno L'avversario Facciamo bandiere Questa carta Dal cimitero Per settare Una carta Trappola normale Direttamente Alla mano Deck E se è settata Dalla mano Possiamo attivarla In questo turno Comunque Carta Abbastanza forte Sia per trickstar Ok Trocasse Sia per magari altre Carte Altri effetti Variant Antopia Viene sempre Considerata Come una carta Variant Se mostri Nome Controlliamo Con un numero Compreso Da 101 E 107 Nel nome E anche I mostri CX E i mostri Number C Che controlliamo Non possono essere Distrutti Dagli effetti Delle carte Dell'avversario Non può Targettarli Con gli effetti Delle carte Una volta Per turno Se viene special Mostri Exis Con un rank Up Magic Con l'effetto Di una carta Magia Rank Up Magic Possiamo targettare Quel mostro Exis E un mostro Dell'avversario Che è l'avversario Controlla Li attacchiamo Quel mostro Al nostro Ok Quindi Mostri Numero 107 CX E i mostri Numero C Poi Evolution Resol Boss Non possiamo Spreciare mostri Per il resto Di questo turno Dopo che questa Carta sia risolta Eccetto Con carte Magia In più Aggiungiamo Overload Fusion Dal deck Alla mano Ok In più Il numero Massimo Di attacchi In battle Pace In questo turno È Come cacchio Il numero Di attacchi Per battle Pace In battle Pace In questo turno È praticamente Uguale Al numero Di mostri Fusione Se utilizziamo Sei o più Materiali Con over Fusion Non riesco A dargli Un senso Scusatemi Scusatemi Può essere Evocato Con carte Magia Dal deck Aggiungiamo Overload Fusion Dal deck Alla mano Il numero Massimo Per battle Pace In questo turno Di qualsiasi Mostro Evocato Con Una Avocazione Fusion Con sei o più Materiali Con over Fusion È uguale Al numero Di materiali Utilizzati Per la sua Avocazione Tramite Per la sua Avocazione Quindi se evochiamo Il chimera tech Può attaccare Sei volte Può attaccare Sei volte Il chimera tech Questo qui Che sto evidenziando Qui può attaccare Un numero di mostri Pari al numero Di materiali Qui invece Lo fa praticamente Otticcappare Scusate Ma dopo un po' Ho svalvolato Dragon King Smith Meno male Che è l'ultima carta Targettiamo Un mostro Drago E controlliamo E raddoppiamo Il suo Attacco Corrente Fino alla fine Di questo turno Poi Se l'avversario Controlla Un drago Il mostro Targettato E gli effetti Il mostro Targettato Non possono essere Negati In questo turno Durante Non è face Possiamo Andere Questa Al cimitero Per specialare Il mostro In posizione Di difesa O Un mostro Un mostro Uno Scusate Possiamo Vedere Sardare Un mostro Per specialare Possiamo Un mostro In posizione Di difesa Uno Nei due draghi XC Se sono Banditi O nel cimitero Scusate Special summon In defense Ma scrivi direttamente Evoca un drago XC Dal cimitero Oppure bandito Almeno non mi fai Incoglionire Perché dopo un po' Io mi Poi di reprinta Abbiamo il barone De fiori Abbiamo la chimera Guardiana Mecca Cavaliere Avramax Libro di magia Del fato Lacrima Regina De ricca Gattina Ammola Libro di magia Del fato Non mi ricordo Cosa fa Se controlla Il mostro Incantatore Può bandire Fino a tre carte Magia Libro di magia Alt cimitero Applica l'effetto Secondo il nome De carte Magia bandite Per l'attivazione Di questa carta Può attivare Solo un libro Di magia Del fato Per turno Uno Fai ritornare Nella mano Una carta Magia Troppola Sul terreno Due Metti un mostro Sul terreno Coperto Positiva Scoperta Un attacco Tre Bandisci Una carta Controllata Dall'avversario Spellbook Retour Sarebbe carino Bene ragazzi Chiedo scusa Per gli svalioni Chiedo scusa Per gli svalioni Ma delle volte Svalvalo E come è scritto Alla roba In inglese Delle volte Svalvalo Detto questo Ragazzi Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video E un saluto a tutti